E adesso sul palcoscenico il presidente di giurie di Fuori Fuoco, Denis Curti, e vediamo chi è insieme il primo classificato. Hai la motivazione Denis? Bravo, però non è su quella carta un po' vintage che mi piaceva tanto. Va bene, ce la possiamo fare. Allora, di tutto tu, che mi sembra giusto. Allora, il primo classificato del concorso Fuori Fuoco è Edoardo Seminare. Con un lavoro che vedete alle mie spalle intitolato Immobile. E la motivazione è per aver saputo raccontare una grande storia fotografica con coerenza stilistica. E per aver saputo sfruttare la potenzialità narrativa della luce e per aver ambientato la sequenza di immagini in luoghi carichi di valore e intimità. Per la capacità di ritrarre i suoi soggetti senza alcuna forzatura e con grande spontaneità. Che bello, grazie Edoardo. Grazie.